La versione con OTP Mobile della firma remota di Aruba è la soluzione perfetta se vuoi poter contare sulla sicurezza della password OTP comodamente dal tuo smartphone. Per l'utilizzo di questo servizio infatti non hai bisogno di altri dispositivi o altri servizi aggiuntivi. Per firmare un documento digitale con la firma OTP Mobile ti basterà scaricare sullo smartphone due applicazioni gratuite. L'app firma digitale Aruba per apporre la firma e l'app Aruba OTP. Per generare la password di sicurezza, l'OTP appunto. I vantaggi della firma remota sono davvero molti e ricapitolando con la soluzione OTP Mobile puoi firmare con lo smartphone e generare il codice OTP. Non hai bisogno di software aggiuntivi e di altri dispositivi. Le app gratuite sono disponibili sia per Android che per iOS. L'attivazione invece è veloce senza costi di spedizione dato che non è necessario l'invio di materiale. Puoi attivare la soluzione Aruba OTP Mobile direttamente dal tuo smartphone e iniziare a firmare in poche ore senza doverti e muovere da casa dall'ufficio in modo semplice e pratico. Una bella comodità. Ora che hai scoperto tutti i vantaggi della firma digitale remota vai al prossimo video per saperne di più.